L'8 aprile a Milano si è aperta la 53esima edizione del Salone del Mobile. Lusso, design e arredamento di qualità sono queste le motivazioni che spingono moltissimi visitatori, specialmente dall'estero, a visitare Milano, vera e propria capitale mondiale del design. Andiamo a scoprire le imprese più interessanti. La nostra azienda è una vecchia azienda, quindi è un'azienda di famiglia per cui siamo arrivati dal 1950 con degli step che hanno diversificato e ribaltato più di una volta le produzioni che facciamo attualmente. È da circa 15 anni che ci siamo specializzati sul mobile per home cinema e tv, inserendo in collezione molteplici modelli da fissi a motorizzati con un'infinità di stili proprio per poter soddisfare al massimo le esigenze stilistiche di una gran parte di clientela alla fin fine. Da diversi anni sono i mercati russofoni, i mercati di riferimento. In effetti si evince un po' anche dal prodotto che è di gusto abbastanza ricercato proprio per una clientela che vuole sempre qualcosa in più e non ha problemi anche di spesa.